Se me lo dovesse chiedere il sindaco mi dimetterò, non ho nessunissimo problema. Io l'ho fatto, ho accettato questo ruolo, mi è stato chiesto di entrare in giunta. Sicuramente questa vicenda avrei voluto indubbiamente che finisse diversamente, non tanto per me ma per l'obiettivo che ci eravamo dati di valorizzarla. È stata una scelta collegiale e valuteremo insieme cosa fare. A poche ore di distanza da Luigi Cavadini, Savina Marelli è il secondo assessore che mette il suo destino nelle mani del sindaco di Como, Mario Lucini. Il Consiglio Comunale ieri sera ha bocciato, dopo un dibattito di 5 ore, la vendita dell'8,25% di azioni di ACSM Agam al gruppo A2A. Con 16 voti favorevoli e 16 contrari, gli 11 dell'opposizione più 5 della maggioranza, Luigi Nonessi e Celeste Grossi di Pacosell, Gioacchino Favara e Raffaele Grieco del PD Eva Cariboni di Amo la mia città, la delibera è stata respinta, come prevede il regolamento in caso di parità. Determinante è stata la presenza a sorpresa del consigliere di Forza Italia Sergio Gaddi, che è arrivato direttamente da Dubai, dove è impegnato per lavoro, per partecipare alla votazione. Unica assente, Roberta Marzorati. Il documento approvato dalla Giunta si è quindi fermato in consiglio. Amarezza e delusione sono le parole che oggi ripete Savina Marelli. La maggioranza indubbiamente è stata determinante, ovvio, perché se la maggioranza fosse stata compatta non ci sarebbero stati problemi. Qui la delusione grossa è che si richiedeva più tempo, si richiedeva più materiale, peccato che le posizioni di voto fossero già state espresse ancora prima di avere il materiale, per cui tutti i alibi per votare contro e questo è deludente. ACSM Agam è la società molti utili, tinata dalla fusione delle ex municipalizzate di Come Monza, che si occupa di gas, acqua e teleriscaldamento. Come detiene il 24,8% delle azioni. La cessione dell'8,25%, unita alla cessione di circa il 7% da parte dell'altro socio pubblico, il comune di Monza, avrebbe consentito ad A2A, che è già socio di ACSM Agam al 23,8%, di arrivare, una volta acquisite altre azioni minoritarie, a controllare la maggioranza della società. Un progetto su cui Marelli ha lavorato e puntato e che difende. L'operazione prevedeva proprio quello che ACSM continuasse ad operare e fosse il veicolo attraverso la quale una grande multiutility come A2A operasse su questo territorio, per cui ACSM continua a lavorare su questo territorio, consolida il suo business e anzi tenta di ampliarlo. E dall'altra parte, entrando in un gruppo, avrebbe potuto sfruttare i benefici del grande gruppo, quindi economia di scala, miglior accesso al credito, i soldi per fare l'investimento e quant'altro.